Una mostra internazionale di arte contemporanea, la quinta della serie che ha due obiettivi fondamentali sdoganare l'arte contemporanea che si proietta sempre più verso il futuro e le nuove tecnologie e proseguire nel percorso più unico che è raro di coinvolgimento diretto di un istituto scolastico nella realizzazione di un evento così importante. Accade ad Andria dove all'interno delle sale del Museo di Ocesano è stata presentata la mostra Mood ideata dal dirigente scolastico nonché critico d'arte Cosimo Antonino Strazzeri grazie al coinvolgimento del suo istituto e cioè Giuseppe Colasanto ormai da circa dieci anni impegnato nella promozione dell'arte contemporanea. La necessità di comunicare con la gente perché l'arte è essenzialmente una forma di comunicazione anzi direi una delle più grandi forme di comunicazione perché come la musica non ha bisogno di essere tradotta, l'arte è universale. Però ecco, l'unico problema che si ha con l'arte è che l'arte ha un linguaggio il linguaggio che l'è proprio che è la linea, il colore, il volume, la forma se tu non interpreti gli elementi del quadro non puoi capire nulla. 74 le opere esposte di 22 artisti provenienti da ogni parte d'Europa ed anche dall'India e dagli Stati Uniti. A brillare però anche i talenti nostrani, vera forza di un progetto che punta a scoprire tutte le arti figurative, a intercettare quello che sarà il futuro attraverso per esempio anche l'intelligenza artificiale, quello che è il presente con le nuove tecniche pittoriche, quello che è il linguaggio universale della fotografia e dello scatto di un'icona del momento. Abbiamo per esempio degli esempi di generative art, cioè arte realizzata con AI, con l'intelligenza artificiale. Abbiamo proprio là, uno là e uno lì. Abbiamo anche opere di carattere astratto, figurativo. Abbiamo opere che rappresentano più generi, abbiamo acquerelli, abbiamo oli, cioè sono opere d'arte che sono state realizzate da artisti che hanno una grande esperienza. Alcune sono inedite, abbiamo anche fotografie, cioè fotografie artistiche, perché la fotografia contrariamente a quanto alcuni pensano non è soltanto meta di produzione meccanica della realtà, ma è interpretazione soggettiva della realtà. Non a caso mood, un termine inglese con molteplici accezioni per descrivere una mostra in cui tante sono le tematiche trattate con vari soggetti e diverse tecniche per un catalogo particolarmente apprezzato. Tutti i docenti, tutti partecipano e credo che questo sia veramente uno dei pochi, se non l'unico caso in Italia, di una scuola che organizza e realizza da sola una grande mostra d'arte contemporanea.